24 casi in più rispetto a ieri in Abruzzo di positività al covid-19 e su un totale di 1187 tamponi analizzati, 2%. Questo è il dato odierno dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Con questo aumento dunque la nostra regione si attesta a 2923 pazienti risultati affetti dal virus, ad un passo insomma, dalle 3000 unità. Cala la percentuale rispetto alla giornata di ieri, quando era stato rilevato un incremento di 25 casi su 823 tamponi, 3%. 309 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 19, meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.648, meno 9 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 315 pazienti deceduti, più 5 rispetto a ieri. 632 sono i guariti, più 33 rispetto a ieri, di cui 212 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 420 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 36.614 test, di cui 31.618 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 244 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 757 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1.285 alla ASL di Pescara e 637 alla ASL di Teramo. I 24 casi di oggi si riferiscono a 6 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 15 alla ASL di Pescara, 3 alla ASL di Teramo. Invece nessun caso per la ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila.